Buongiorno E questo significa che è quella giornata veramente, 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 veramente mite con questi giorni in questo periodo e certo siamo sempre nella media Oggi riprendendo sempre la filosofia sintetica del dire le cose in maniera più sintetica possibile aggiungere il resto in descrizione, dico due parole, cioè due film La Sirenetta e Interstellar Perché li cito, appunto, leggete la descrizione Per più informazioni Anyway, as you just see from the window Today, we, non abbiamo avuto Andiamo a girare la luce che non si vede niente Perché non abbiamo avuto those beautiful blue skies and golden sunshine Ce l'abbiamo avuto ma poco Parzialmente nuvoloso, come suggerisce qui E quindi, come nei giorni precedenti, potrebbe piovere Come ho fatto nei giorni precedenti Spero di no, spero comunque si mantenga questa atmosfera comunque abbastanza stabile Ovviamente le cose possono sempre cambiare, momento all'alto Ma come sempre, vedremo Spero di questo So, from the mythical window With the color of the curtain Beautiful, but un po' più oscuro oggi And it's a green roller shooter Behind me And finally From my mythical keyboard Yamaha Digi X 640 IPG 625 Have a great day Him All the people who follow the channel and the reports And also the haters Gli ideatori sono sempre importanti per me Special greetings to Patrick Yousef Always Douglas Ma tutti, in tutti avete il mio rispetto Come dico sempre, anche se pochi Questo aumento significativi So again, have a great day Him All these people And everyone too bare goes in the room yim The говорят No 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 Not No 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 And